La crisi economica del lavoro, per la legge fredda dei numeri, aveva portato segni meno anche per le morti bianche e gli infortuni sul lavoro. Con la ripresa lieve, le stime dolorose salgono, un segno di allarme che viene lanciato in occasione della 66esima giornata dell'ANMIL per le vittime degli incidenti sul lavoro, con manifestazioni a livello provinciale. Qui siamo a Palazzo del Popolo ad Ancona, con l'avvio della riflessione che inizia con le note della banda cittadina. Nel 2016, considerato il periodo fino ad agosto, si ravvisa un aumento di infortuni dell'1,6%, confermando la tendenza in crescita del 2015 rispetto agli anni precedenti. Nelle Marche nel 2016 i morti sul lavoro sono stati 26, erano stati 22 quelli del 2015, in particolare numeri raddoppiati nella provincia di Ancona, si passa da 5 a 10. Tendenza in aumento anche a Macerata, si passa da 5 a 9. Più in generale, sono in sostanziale aumento anche le malattie professionali denunciate. Un aumento gravissimo, è un secondo elemento di riflessione tra tutti i partner attivi della prevenzione, per verificare quali strategie e quali iniziative si possono mettere in campo. Non prima, battuta quella della formazione. Abbiamo avuto un tesoro produttivo fatto di piccole aziende, che rispetto alla tematica della prevenzione hanno maggiore difficoltà di approccio, quindi noi dobbiamo sostenerle ancora di più. Le malattie professionali sono in aumento e quindi credo che ancora distrarci nella parte di parlare di sicurezza.